Cari amici, cari amici, bentornati Dopo anni e anni E anni di assenza E' tornato il mitico trio dei nerd Per parlare di tua madre Lo scoprirete Durante Durante la puntata Come avete sentito c'è Whippy che interrompe come sempre Ciao Whippy Pronto, rispondi, di qualcosa Eh, c'è Whippy, ciao Whippy E c'è anche ovviamente Van Ciao Dunque, avete bevuto? Perché se questo è l'inizio Andiamo bene Allora direi Di cominciare alla grande Belli cazzuti, parliamo un attimino di questa generazione Per poi dopo spostarci direttamente Sulla prossima, le nostre previsioni, speranza minchiata Segmentali, per esempio, giusto per cominciare Bene, direi Whippy, cosa ne pensi Di PS3 Non lo so Non ce l'ho, quindi non lo so E che idea ti sei fatto Durante questa generazione, insomma Eh, è un ottimo soprammobile Sei un succhiato Ecco, per fare giusto una breve comparazione Per capire da che parte stai Di 360 cosa ne pensi? Boh, che nera È il commento più razzista che abbiamo sentito Veramente, non ho mai sentito una cosa così razzista Prima era bianca Eh, è appunto Michael Jackson al contrario Esatto Sei una persona male Comunque il tuo commento è come al solito molto competente No, dai, cosa ne pensi? Di questa generazione Entrambe le consorse sono decenti Parla un po' di questa generazione, per esempio Cosa te ne è parso? Ti è parso che ci siano stati dei giochi che Hanno meritato di essere in questa generazione Eppure potevano essere fatti tranquillamente In una generazione passata Senti, ho un bisogno di un upgrade Molto interessante Complimenti Moltissimo Ci catturi sempre con le tue parole Lo so Giusto per chiudere il discorso Cosa ne pensi del Wii? Bello, bello Non avrei saputo dirlo meglio Proprio ben conciso Però allo stesso tempo è anche molto profondo Bravo, Wipy Veramente, complimenti Sì, davvero Complimenti, complimenti, Wipy Altro che multiplayer Qui, qui No, questo podcast multiplayer Ti faccio fare una sega Sì, sì Con questi pareri tecnici Hai sentito che termine che ha utilizzato Tra l'altro Vabbè Vabbè No, la Wii l'ho venduta dopo due giorni Allora Allora parlaci male della Wii, cazzo Dai, vai Via Ah, perché l'ho parlato male Casa? Perché devo parlare male Se l'hai venduta dopo due giorni Qualcosa che non ti è piaciuto Ci sarà stato No, erano più di due giorni Dove Sarà stato un mese, dai, mi ricordo Eh, più o meno Eh, quindi Cosa te ne farsi di questa esperienza? Diciamo Una botte via Eh no Che aveva dei giochi carini Ma una volta finiti Non c'erano più Che cazzo vuol dire? Ma questo vuole per tutte le console È come dire Eh, sì, il film era carino Però una volta finito Cioè, dopo non c'è più Eh, ho capito Ma, cioè L'ho comprata Quando ero uscita da tre anni La console Devo giocarci un mese Non è che A lei c'era ma Ce n'era C'era un po' di carenza Di giochi No, qualche gioco c'era Che tu, veramente Non ti piace un caro Barbie Ors Adventure C'era, cosa c'era? No, tra l'altro Sì, molto bello Tra l'altro Cooking Mama Eh, beh, sì Maiorce and Mead 2 Probabilmente Giulia Passione e sti cazzi No, c'era Mario Galaxy C'era Etta Poi c'era Mario Zelda Smash Bros Mario Zelda Mario E soprattutto Sono dei barboni Perché una volta Che l'ho venduto Ho fatto uscire Da un piccolo Poi c'era Vabbè, Medward Dopo che c'ero No, a me non è piaciuto C'era Disastre Insomma, c'erano anche Qualche esclusivo Qualche sparatutto Subinari C'era Muramassa C'era Sininpanish Qualche minchiata Ti 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 Vabbè Esatto Ormai Tutt'a roba Post 2008 2008 Poi Via Ma lui l'ho comprata Poi l'anno scorso Cioè, fa tanto il figo Ma l'ho comprata Poi l'anno scorso Cioè, la roba c'era Ma che due anni fa Vabbè C'era già C'era già Tutta la libreria Migliore disponibile Sì Era appena uscito Il Galaxy Vabbè 2 No, no Era appena uscito Il Galaxy 2 Sì, sì 2 E allora Che cazzo dici L'ho giocato a metà Perché era uguale all'1 No, vabbè Non è che era proprio Uguale all'1 Diciamo che non era Molto differente Sì, appunto Era un DLC Diciamo che Poiché Nintendo E i DLC Anche le patch Vedendo Sì, in effetti Sì, in effetti Sì, in effetti Però Eh, sì Da quindi il tuo parere finale Sul Wii Un voto Un voto Uno score Fai come tutti gli altri 5 Ecco Bravo Buono Aspettavo Un voto a PlayStation 3? Eh, facciamo un Un sette e mezzo Mi si è rispettato un 3 Un 2 Oh, dai Un po' di obiettività Un buon sopravmobile Hai detto Alla faccia D'obiettività La gamba del tavolo In più Il 360 invece Sentiamo Ma facciamo un 8 Non so te Van Ma io mi aspettavo un 10 Ma neanche un 10 Dove essere un 10 Quindi alla fine Questa generazione Comunque ti è piaciuta O no Vuoi più di tutto sommato Girando le somme No Bene Benissimo Passiamo Andiamo avanti Passiamo a Van invece Van tu cosa ne pensi Di questa generazione Un pochino Una carriera sulle console Dove ne pensi Allora Come Ho avuto solo 360 Mettiamo Mettiamo tra parentesi questo Quindi se parlo di PS3 Wii Diciamo che I miei pareri Generalmente Dovrebbero essere Dimezzati Allora Cominciamo dal Dal Wii Visto che Wipi ha cominciato dal Wii Comincio anche io dal Wii Allora Diciamo Che Ho avuto un'idea fissa Fin dall'inizio Del Wii Nel senso Tipo 80% Merda Casual Per Dildo Per Per quel Dildo Di telecomando Che devi sbattere Sinistra A destra E 20% Restante Giochi belli Ma belli davvero Diciamo che Anche se era indietro Indietro Molto Graficamente Tecnologicamente Eccetera Eccetera I numeri Parlano Parlano Chiaro Avvenuto più di tutte Eh vabbè Ma grazie Tanto è un cazzo C'è stato Sottito fino adesso Continuo a stare Zitti È un regalo Che si può fare Più facilmente A una ragazza Sì 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 Effettivamente Ci sarebbe anche Il Dildo Sonic Ancora più adatto Quello dipende anche Da ragazza Ragazza Nell'idea generale Il Wii Era proprio Messo come target Su tutti Quindi è ovvio Che da un certo punto Di vista Era una bella console Perché poi Proprio alla fine Della sua vita Sono usciti Tutti i giochi Decenti Donkey Kong Alla fine No alla fine Il problema Il problema principale Del Wii È stato che È passato effettivamente Un anno Un annetto e mezzo Dove non è uscito Un cazzo Sì Però alla fine Cioè Esattamente Esattamente Come hai detto tu 80-85% Anche 90 Vala merda E 10% Di giochi Ma giochi Veramente con le palle Sì O quel GDR Che è uscito Solo in Europa Xenoblade 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 La story Muramasa Scene Punishment Tutti i Zelda E Mario Che ci sono stati Gli stessi Mario Nonostante Magari a molti Esatto A molti potrebbero Rompere le palle Perché nel cinquantesimo Mario Comunque la loro qualità Però vendono Quindi Sì La loro qualità È come Dildo Vendono comunque Non importa Puoi farli neri Neri viola Rossi Ma comunque Esatto Neri viola Le comprano uomini Donne omosessuali Trans Chi caso vuoi Ma comunque E poi C'è da considerare Che Che Economicamente Alla fine Costa Quanto è che costa Adesso 150 euro Mi pare Sempre È sempre stata Quella più economica E appunto Quindi Ultimamente Come il pane Via Subito vendute Sì ma È la più economica Ma anche quello Che è sceso Meno di prezzo Rispetto alle altre Sì Perché già il prezzo Era basso di suo Non ce l'avrà bisogno Le altre Sono partite Da 400 O addirittura Da 600 250 Comprare a 150 Ora Una console del genere Per quanto sia divertente Adesso A parte che Credo La taglino Poi 99 Sì 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 Spero Poi Vabbè Io comunque Non l'ho comprata Purtroppo Perché c'erano dei giochi Che ci tenevo a provare Diciamo che E quindi Così Così Dico qualcosa Anch'io Che dopo Evito Di perdere tempo Il problema Del Wii Vero È che Con quel cazzo Di telecomando Non si può giocare Seriamente a un gioco Che non sia uno spartuto Su binari Perché È di uno scomodo Che ti Scartavetri marroni L'ho provata Una volta È una cosa È una cosa Di una scomodità Impressionante Nonostante Mario Galaxy Sia stato un gioco Epico Ho fatto fatica A finirlo Per la rottura Di coglioni Che è quel cazzo Di telecomando Eh già A meno che Non c'hai voglia Di spendere 40 euro Per un controller Classico Classico controller Sì E questo Questo è il brutto del Wii Perché tutti i giochi Sono tipo Multigiochi Se 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 lo compri Per la famiglia Di essere pronto A sborsare Almeno 600 euro Per tutti i telecomandi Per Per i contro Per i contro Anche perché Anche perché Per esempio Il pad Gamecube È retrocompatibile Ed è una grandissima cosa E solo certi giochi Lo utilizzano Esatto Il 90% dei giochi Dopo non te lo fa usare Anche se potrebbero usarlo benissimo Come Mario Galaxy Per esempio La fine Non è Non è Il problema è Chi ha comprato Gamecube Ai tempi Beh io non l'ho comprato E ho approfittato Del fatto che Lui È retrocompatibile E ha l'ingresso Del pad Gamecube Per giocarmi Tutti i giochi Gamecube Magari se uno Lo sapeva già in anticipo E quando Usce il Gamecube O magari E quando Usce il Gamecube Se Se qualcuno Lo avesse saputo Vabbè E Mo parlo Della PS3 Che anche Cioè a sto punto Parlo della PS3 Che neanche ho avuto Quindi dico Il mio parere Generale Diciamo Allora Ha iniziato malissimo Lo sappiamo tutti Ci ha avuto Una 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 frode Incredibile Liking del PSN 150 milioni di dollari Miliardi e miliardi Di soldi rubati Account rubati Eccetera eccetera Nessuno si fida più Di usare il PSN E tante stronzate varie Sempre In sto periodo Di tumulto Però se Se Allora Quel monopolio Che ha perso Da una parte Sì L'ha perso Dall'altra Se l'è ripreso Perché Qua parliamo A oggi A oggi infatti Credo che quello Che tu voglio dire Non esiste Una Una Le altre due compagnie Insomma Non hanno lo stesso livello E qualità Di first party Anche Nintendo stessa Niente comunque di meno Sì Però Perché Nintendo Quello appunto Dicevo Quello che da una parte Hanno perso Dall'altra Ne hanno guadagnato E qua parliamo soltanto A territorio giapponese Perché Nell'ultimo anno E qua introduco Anche la 360 Allo stesso tempo Nell'ultimo anno La 360 In Giappone È stata Un fallimento Totale È stato Il flop Più grande Che Microsoft Abbia mai tirato fuori In settimane E settimane Di dati di vendita Non raggiungevano La quota Di 10.000 unità Vendute Di console C'è stato un periodo C'è stato un periodo Dove addirittura La Playstation 2 Vendeva di più C'è stato un periodo In cui era tutto PSP PS3 E DS È stato Un fiasco totale E durante quel periodo Molte compagnie Che Molto probabilmente Avevano già Avuto collaborazioni In passato Con Microsoft Sono passate A PS3 Per i loro giochi Successivi Quindi Molte esclusive 360 In quel periodo Giapponesi Sono passate A PS3 E sono diventate Multi piattaforma E qui Non sto a fare esempi Perché sono tutti I titoli Che nessuno conosce Quindi Però l'idea È chiara L'idea È messa lì Tipo Tipo Compagnie Che da anni Supportavano 360 Con le loro esclusive Eccetera eccetera Che Vendute Sono in Giappone Comunque Ma che comunque Vendevano E adesso Sono passate A PS3 O PS Vita Quindi Sta ad indicare Comunque Che Che la PS3 In quel periodo Ci ha guadagnato Parecchio Perché sono usciti Perché sono usciti Parecchi RPG Anche E anche Molto belli Concentratosi Su un certo genere Per esempio No Vai 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 Eh tipo Sono usciti Parecchi Parecchi giochi Di ruolo Giapponesi Nella PS3 Penso Negli ultimi Otto mesi Ne saranno usciti Quasi una decina Anche Se non voglio esagerare E La 360 Invece È stata lasciata Ai soliti titoli Mainstream Tipo EA Sports Eccetera Eccetera E non ha più venduto Per questo motivo Perché Perché sennò prima Era messa meglio Tutto qui Vabbè ma non è che Ha mai venduto Più di tanto In Giappone No però Il problema È che È passato un periodo Comunque quando Uscivano i giochi Di qualità Vendeva Guarda che nel 2010 La 360 Ha superato Un milione Di copie In Giappone Ed un milione È tanto È tanto Anzi è troppo Un milione È davvero troppo In Giappone È che È che dopo È completamente Cronato Sì sì Ha avuto un crollo Verticale Clamoroso Sì 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 Però Però appunto Tu dici Non ha venduto Tante copie In Giappone In generale Però Quei numeri Che a noi Sembrano piccoli Tipo Che ne so La prima settimana Che è uscito Tipo due settimane fa È uscito Kingdom Hearts 3D Per il 3DS È venduto 200 Mi pare Mi pare Ha venduto 540.000 copie Oppure Mi sto sbagliando Totalmente Sono 290.000 Non lo so In Giappone È un numero enorme Abbiamo fatto 200 200 200 Qualcosa Sì sì 240 Non mi ricordo È un numero enorme È relativo anche alla nazione Perché ad esempio In Giappone La PlayStation 3 Va meglio E probabilmente Ha anche avuto Un incremento In Giappone È un incremento Infatti In quel periodo In Giappone 360 È caluta È l'ultimo anno Se tre PSP S'hanno aumentato Un casino Hanno aumentato Un casino Ma Voi La PSV Ormai è uscita Ci sono ancora Compagnie Che fanno Giochi su PSP Rendetevi conto Ah ma per forza Ha una base installata Clamorosamente ampia E PSV Non ci arriverà mai A quella base installata Vabbè PSV La lasciamo La prossima volta Perché quello È un discorso Tutto da fare Tutto a parte No Parlerei un pochino Di questa generazione Lasciando da parte Il discorso vendita Appunto Alla fine Parlando di 360 Invece Dico la stessa Cosa che ho detto prima All'inizio All'inizio Ha avuto problemi Niente giochi Console difettose Cetera eccetera Però Diciamo che Dal 2007 in poi Fino al 2011 È andata benissimo Poi Calata picco Come il Wii Basta Però Onestamente È l'unica console Che possiedo Esattamente quello Che volevo dire io Nel senso che La 360 è partita Il primo anno Con nulla in mano E console di carta pesta Poi dopo Si è Ripresa alla grande Dal 2006 Dall'uscita di Gears of War Più o meno È uscita E ha cominciato E ha cominciato A vendere A vendere Molto E a tirare fuori Molte esclusive Anche temporanee Cose così Veramente In quel periodo Il mercato Era completamente In mano sua Sony era schiantata Poi dopo Microsoft Ha cominciato Una politica assurda Chiudendo First party Perdendo esclusive Eccetera Stava puntando Solamente ai casual E dopo è uscita Sony Che si è svegliata Ha cominciato A tirar fuori esclusive Lasciando per La qualità Il problema Il problema Dell'ultimo anno Per la 360 Si chiama C'è un problema Un problema grave Per la 360 L'ultimo anno Si chiama Kinect È un problema Per un videogiocatore Qualcosa è una merda L'ha ucciso Sì Ma chi se ne fotte di Vaffanculo È un cancro Il Kinect Ve lo dico io Ha ucciso la 360 Ha ucciso Ha ucciso anche la prossima Sì E questo è il problema Io già mi immagino Il prossimo E3 Microsoft Io già me l'immagino La conferenza Microsoft Che sarà Sarà un casino Guardate Sarà una festa Sarà un Kinect unico È una cosa assurda Tra l'altro Perché questa generazione A mio avviso È stata molto Bruttina Nel senso che Ci sono 3 o 4 capolavori Però i giochi Sono andati Impoverendosi E nonostante Nonostante comunque Sony abbia investito Molto sulle esclusive E rispetto a Microsoft E Nintendo Vabbè Nintendo La qualità delle esclusive Rimane Eccellente Sappiamo tutti Quello che manca a Nintendo Sono nuove IP Però Eh sì Sony ha investito Molto su esclusive Ha fatto nuove IP Eccetera eccetera Però il problema Delle esclusive Sony È che la maggior parte Non è che fanno cagare È che piuttosto Ti tira Perché piuttosto Sono mirate Appunto A Certi giocatori No Ti tira Sui coglioni Anche perché Non lo so Mi viene in mente Un'esclusiva Come Resistance Che non ha senso Di esistere In questo mondo Non ha senso Un gioco di merda Così Sì Proprio vero Ci sono Però esclusive Anche lì Grandissime Che comunque Non sono arrivate Da Sony Come per esempio Valkyria Chronicles Oppure Sì 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 Giochi comunque Giapponesi In realtà È l'unico gioco Veramente Fatto da Sony Che merda di essere giocato Anche se lì Avrei anche Tante 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 critiche Comunque Uncharted Però Confronto con la concorrenza diretta Nonostante Microsoft Si stia Inculando È sempre meglio Un Gears 3 Che un Resistance a caso O che un Cazzo di vita A Big Planet Dove È un platform Con una fisica Ridicola del personaggio Perché i salti Sono una scopa Nel fungo Ma è uscito Gears 3 Gears 3 È uscito È uscito Adesso io Non ci ho giocato Come avrei voluto Non è Vedi poi cosa succede Appunto Non bisogna strapparsi I capelli Non è sto gran gioco È un buon E questo è il problema È che Ah boh La verità La verità Comunque Un altro discorso Che vabbè Adesso questo apprendeci Che ci uccidiamo Però È Che Da una parte Si paga il live E dall'altra no Da una parte Non c'è un cazzo Da giocare Che valga la pena Di giocare online Da allo 3 Beh no Non è vero No Dai Cosa c'è da giocare online Allo Rich fa cagare Online fa veramente cagare Può giocare Cagare no Rispetto al 3 Sapete cosa Cosa è rimasto da giocare online Ma non fa cagare Ma ad esempio Da giocare online Forza Motorsport È perfetto Cioè Seriamente A parte i titoli Più mainstream Tipo Gears 3 Halo Bla 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 Da giocare online Sono rimasti solo Picchie duro Punto No ma il problema C'è quello che dico io Che da una parte Uno paga Vabbè Si paga 30 Su siti internet Ma Ti ho detto la mia intanto Quindi No no Sì sì No ma hai ragione Sui 30 euro Su siti internet Il prezzo ufficiale Sarebbe 60 euro Per un cazzo di abbonamento Di 12 mesi No Allora da una parte Io non ho visto Un solo gioco Che si è stato fatto Pensando all'online Dall'altra parte Comunque hanno Eh Eh Beh se non parliamo Di esclusiva Borderlands online È una figata No Sono ovviamente Di esclusiva Ah beh ok Parliamo di esclusiva Da una parte Da una parte Da una parte hanno Warhawk Starhawk Che adesso sta uscendo Comunque sta uscendo Un gioco decente Eh Come cazzo si chiama Mag Che comunque vabbè Uno dice È un gioco di merda Però intanto Ah mag Mag Sì no Però intanto voglio dire Di soldi Di tentativi Da una parte Anche se l'online è gratuito Ne hanno fatto Microsoft non ha fatto Un cazzo Sì è netta alla fine Ma questo non ha fatto Un cazzo Se avete qualcos'altro Da dire Ditelo Che chiudiamo Questa generazione Che ha rotto Il cazzo No Devo dire Devo dire Che il Cosa che posso dire C'è una cosa Che volevo dire Il mercato digitale Ancora Si deve evolvere Non lo evolve Ancora siamo I propri I primi passi Ancora E la gente Già Fa release Digitali Dappertutto Il problema Del mercato online È che su console Cioè È sviluppato di me Eh sì Immagini soltanto A scaricare 50 gigabit Di gioco Vabbè ma quello È un problema Delle connessioni italiane Sì sì È un problema Io il gioco Lo voglio Con la copertina E tutto il resto Ma vai a fan cura T'è la copertina Old school Online Og 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 Andiamo avanti Dunque andiamo La prossima generazione I libretti Ma i libretti Fa anche cagare Adesso tanto Andiamo veloci Alla prossima generazione Andiamo Cattivi e cazzuti Dai che c'è il Milan Da vedere Che c'è un montare Trequartista Che non ce lo vogliamo Mica perdere Di sicuro Che è informissima Adesso proprio Informissima Dunque Prossima generazione Cominciamo dal Wii U Perché è fondamentalmente Quella con cui Possiamo parlare meglio Perché ci sono più notizie Wii U Io dico che comincio Con quella Se 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 Comincio Cerco di riassumere Un pochino Per la gente a casa Che non sono cazzo Stronzi Sfigati Informate Non è stato presentato Questa nuova console Nintendo Che avrà uno schermo Touch Nel pad Che comunque Avrà tutti i tassi tradizionali Avrà ancora il dildo? No Cioè è compatibile Esattamente come Come il Cosa del Gamecube Però non sarà Inserito Quindi potrete utilizzare Ancora il vostro dildo preferito? Se volete ottenere Il vostro dildo Che avete ormai Segnato Che avete fatto firmare Da Rocco Potete tenere Da Reg Ivoata Che chissà Che cazzo Potete tenerlo Eccetera Però Ci sono moltissimi dubbi Sulla potenza Nonostante Comunque Adesso io lo dico Molti sviluppatori Hanno detto Che la console È potente E facile da programmare L'ha detto Crytek L'ha detto Epic L'ha detto Gli stigati Di Dark Eh Crytek Sì L'hanno detto Darkany e Porsche Alla fine Quindi La console è potente Si Si può stare tranquilli Non è Sicuramente È per alzare l'hype Per tipo Per convincere la gente Che è una bella console Eccetera Eccetera C'è qualcuno Che ha comunque Mosso delle critiche A riguardo Dicendo che È indietro Rispetto a Perfino al 360 PS3 Ah è follia È follia Ma anche se fosse Poco più avanti È una cagata assurda Perché poi Se non è altre No è follia È follia Perché le dichiarazioni Degli sviluppatori Darksiders Erano che Dopo due settimane Di lavoro E avevano raggiunto Il livello dei PC Di fasciao Che Darksiders Non sia un gioco Con delle richieste Così esose È vero Però Ma si sa che muovono Si sa che muovono Critiche per aumentare Le visualizzazioni Delle pagine Tanto Anche perché Non avrà mai Non avrà mai L'hardware Di una 720 O una Playstation 4 Vabbè ma Quello lì Non è tanto importante Questo non si sa Questo non si sa A parte che Esatto Non darlo per scontato Perché la situazione Non è proprio Il prozzie Come si crede Comunque Il punto Il punto è Che alla fine La console Sembra abbastanza potente E facile da programmare Soprattutto E comunque Magari sarà meno potente Delle altre due Ma bisogna vedere Anche di quanto Non ci sarà Lo stesso stacco Che c'è in questa generazione Questo è l'importante Almeno ci avrà A mettere a filo Da torcere alle altre Detto questo C'era incognita Del prezzo Non si sa nient'altro Vostri pareri Per il prezzo Direi che stiamo Sui 300 euro 300 e qualcosa Quello che pensavo Anch'io Poi Vabbè Io non ho visto niente Perché onestamente Non mi sta interessando Adesso Mi interesserà Più che altro Quando Sarà effettivamente Annunciata Fisicamente Preorder I titoli di lancio Eccetera Eccetera Però Se come promettono Tutti quanti Day one Ma se come sembra A mio avviso Cioè È una gran console Poi magari Sarà meno potente Di uno delle altre due O delle altre due Ma anche sticarsi Bisogna sapere Quali titoli Usciranno Soprattutto L'importante È il prezzo Anche perché Alla fine Sì 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 Non è ancora Come credo io E come credi tu Se rimane sui 300 euro Dollari Magari non Day one Perché comprare Console al day one Ormai È pericoloso Però È come comprare Una scimmia di peluche Pensare che sia vivo Ah infatti Tu l'hai fatto Spesso Perché sono froci Le scimmie Non capisco Il channel Che è scritto sempre Per cui Per cui lui l'ha comprata Perché così Poteva giocare Le scimmie Oggi Comunque Se volete una console Fate la regalare Vale Tu vi cosa ne pensi Del Wii Specialmente Se vi regalano Una PS Vita La potete vendere Il giorno dopo Che tanto Non vi serve un cazzo Tu Tu Cosa ne pensi Del Wii Beh Semplicemente Ci hanno aggiunto Una U Alla fine Per far sembrare Che fosse Un'altra console È il commento Più bello Che io abbia mai sentito Il Wii Beh Ti ricordi Che l'anno scorso Non si capiva Se fosse Una nuova console Esatto Vorrei fare Un secondo Di silenzio E un applauso Anche Per la presentazione Di una nuova console Più incasinata Della storia Dell'universo Conosciuto Beh in effetti Non si capiva La gente Si che figata È una nuova console Ma guarda Che è un pad Per il Wii Che è una console Portale Non si capiva Un cazzo Esattamente Un applauso Ai geni di Nintendo Che non sanno manco Presentare una figa di console E quindi Diciamo che Come preannuncio Non è molto Allettante Non so cosa Ad aspettarmi Però Se il prezzo Sarà ragionevole Potrei farci Un pensierino Da pubblica Che mantengono Le promesse fatte Sì Poi comunque Comunque Quella presentata Lo scorsi 3 Era un prototipo Sì Sì Non avevano neanche idea Allora di che cazzo Stavano facendo Infatti Se Dipende anche Perché Se le console Microsoft E Sony Non escono Dentro Tre anni Cosa che spero Non accada Io canta Quando devono uscire E quando moriamo No Appunto Se magari Sony E Microsoft Fanno questa cagata Potrei anche pensare Di puntare sulla Wii Ma Adesso Un altro gioco Stupido Stupido Delle Ubisoft Con i conigli cattini Non so se vi ricordate No mio dio Quello no Vi prego Come fai a giocare Un gioco su console Contro giocatori del PC E come suicidarsi No Non credo Giochino insieme Non sono sicuro Che giochino insieme È stato annunciato Solo per Wii U Due PC Ah boh Ma allora Magari L'importante L'importante È che mantengono Le promesse fatte Punto Non sono sicuro Sì Ma comunque Voglio dire Che sia Una bella console Da sfruttare Onestamente Un gioco come Basta un Super Mario Galaxy In HD Con la potenza Di una console Di nuova generazione Ragazzi Basta quello Per comprare Sì Ma dipende Cosa si intende Sempre per nuova generazione Anche se io Anche se mi sto Sul cazzo Mario La prossima generazione Si sa che È più potente Di 360 Sì lo so Spero Ma alla fine Che cos'è Un problema Spero sia anche Almeno Adatta A Le future Se mai saranno Le future comunque Saranno molto meno potenti Di quello che vuoi pensare Sì Ma saranno più potenti Di queste Comunque Parlando della Xbox 720 Dicono che sarà 4 o 3 3 o 4 volte Più potente Della 360 Attuale Sarà vero? Ma sarà anche di più Basta guardare L'ultimo video Di Di più Mamma mia Non stiamo mica Stiamo mica parlando Di un PC Del 2014 E quello sarà Tipo almeno 20 volte Più potente Di una Parliamo Parliamo Passiamo a parlare Esatto Possiamo a parlare Della nuova Xbox A prescindere Dalla sua potenza Che È sconosciuta Ci sono molti Non si sa un cazzo Fondamentalmente Si sa che comunque Sarà abbastanza Più potente Di 360 Si suppone Il rischio Secondo me Che è molto concreto E loro facciano Un upgrade In stile Wii Nel senso che Anche lui Era molto più forte Era più Più potente Di Xbox Gamecube E Playstation 2 Però loro Ci metteranno Un cazzo di Kinect Integrato E sarà così E si accontenteranno Di venderlo Alle mamme Il problema È se Appunto Loro vanno a sprecare Tutta sta potenza Con il Kinect Sarà così Alla fine Guardandoci in faccia Microsoft Che esclusive ha Appettibili Veramente Ora che Gears Ne abbiamo già visti tre Ne abbiamo già visti tre Tutti uguali Forza È uguale Cioè Vabbè Cinque magari Lo prenderò Perché Quelli di Turnitent Ci sanno fare Veramente Vabbè Ma Halo Gears Halo Halo Ha rotto il cazzo Dal tren FM Halo Halo Ha rotto il cazzo Dal tren Ne rilasciano uno All'anno Adesso fanno il quattro Che è andato in mano Della gente Che non capisce un cazzo E basta leggere Vabbè Questo è ancora tutto Da vedere No ma è vero Basta guardare Che escono per vedere Che non sanno Che cazzo Stanno facendo Vabbè Magari lo fanno Soltanto per tenere Su un po' Live Per non dire Troppe cose Prima delle tre Eh va bene Se mai Alle tre Annuncia soltanto Roba per Kinect Almeno Tiene informazioni Importanti Su un gioco decente Aspetta Halo Halo Se il quattro Esce solo su 360 Quanto ci vuole Vedere Halo 5 Su 720 Penso Sono altri 5-6 anni Almeno Ma infatti ho dei dubbi Che Halo esca solo su 360 Ma Credo che almeno Perché annunciarla Adesso allora Credo che almeno Avrebbero dovuto farlo Su tutte e due le piattaforme Sia su 360 Che su 720 Il problema qual è Che 720 Non esce quest'anno Sì Ma Loro in realtà Non hanno dato Una data precisa No no Non esiste ancora una data E a meno di un anno Dall'uscita Non esce Quindi tu devi guardare Tu devi guardare Questo svantaggio Allora Se esce su 360 E poi esce su 720 Quante possibilità ci sono Che le due versioni Siano identiche E quante possibilità ci sono Che La gente aspetterà La versione 720 Nessuno Io sì Ma perché tu non capisci un cazzo È notoriamente No vabbè Ma io dico questo Non perché Ma perché sono uscite Delle immagini Che su 360 Sono impossibili Allora anche lì È effettivamente vero Ci sono delle immagini Che se non sono pompate Sono abbastanza impressionanti Però Sono soltanto immagini Di concetto Sì esatto Cioè Di gioco Di gioco gioco Immagini che si possa Effettivamente Giudicare la qualità Di una partita in game Non ci sono Beh Qualche pezzettino sì Ma sono molto Sono scanca Sì No beh Sono scanca Hanno rilasciato Un video Di gameplay No è Non è Sì ma È specificato È quello Di player Però Non mi è sembrato Nulla Nulla di così Poi Comunque la stampa Ha già giocato Al gioco Al primo livello Ci hanno giocato Ma dove Su che console Per quale piattaforma Tecnicamente 360 Eh ma C'è Praticamente PC Non si potrebbe dire Un cazzo fino alle 3 E infatti Quindi loro Non possono dire Non possono dire Non hanno detto Su che console L'hanno giocato Esplicitamente Si ipotizza 360 Ma Il problema è Loro possono anche Avelo giocato Su 720 Però il gioco Esce quest'anno Su 360 No 720 Quest'anno Non si sa neanche Se esce quest'anno Perché Loro quando L'hanno annunciato Le 3 L'anno scorso C'è scritto Che l'anno prossimo Usciva Si Olide 2012 Però Dipende se intendono 2012 Come anno 2012 Commerciale Che comunque Finisce a marzo La 360 La 720 Non uscirà mai Prima di marzo Gennaio Cazzo Di lancio Per una cosa Anche se però Potrebbero rilasciarla A marzo Rilasciare una console Con un'esclusiva Diciamo di questo peso Non sarebbe Buona brutta idea Ma in realtà Sì A meno che non ci sia Il cross game Tra le due versioni Tu spacchi la fanbase A metà Vabbè Ma anche se fosse Il cross game Gli appassionati di Halo Proprio i fanatici Comprano anche La 720 Eh Sì Ma tu così Dividi la fanbase Questo è il fatto Perché Perché Il 25% delle persone Rimane su 360 E non gli ne frega un cazzo E farà il salto Quando ti sarà 20 di software Sono 20 di software Tu ti assicuri Venditi di software E vendite Parziale di hardware Parliamoci chiaro Se tu metti Halo Sulla 720 Tu ti assicuri 4 milioni Al lancio Sì 4-5 milioni Come minimo Però Al massimo Devo dire È un milioncino Andrà anche su 720 Però No no Però Cioè È pronta La 720 Per marzo Non credo Non lo so Non si sa nemmeno Appunto per quello Bisogna aspettare le tre Il rumor Il rumor che ci sono Parlano di 2013 Comunque Anzi Si mette addirittura In dubbio Il 2013 Fa te Si parla addirittura Di 2014 2015 Si Si Avevano detto qualcosa Del genere Comunque Però Eh Voglio dire Il problema è che Loro Assumono già Di dover Rilasciare le console Che presto possibile Per superare il Wii U Cosa che non ci riusciranno Mai a fare Tra l'altro Il Wii U Cioè Uscirà con ogni probabilità Ad ottobre Comunque Si Allora io non so Se sia effettivamente Possibile Nel senso che comunque Annunciare una console R3 E lasciarla in meno di un anno Non credo Sia una cosa Che sia mai stata fatta Forse con 360 Si 360 è stata annunciata A marzo Al PAX Mi pare Non mi ricordo Che conferenza E poi è uscita a dicembre Quindi non è anche tanto Tanto distacco Un anno di distanza Eh Vabbè meno 11 mesi Però c'era C'era la differenza Che 360 Era morto E loro non fregava niente Di vendere Xbox Ormai Ormai sapevano già Che non vendeva E quindi Loro non fregava niente Di annunciarlo prima Xbox Era 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 morta Appunto Quindi loro conviene Continuare a Dire che non ci sarà Una nuova console Perché sennò Calerebbero le vendite Di 360 Ah ma ci sarà Una nuova console Tanto lo sanno tutti Che è il segreto Di Puginella Eh sì ma non si sa Quando Sarà nel 2013 Quasi sicuramente Perché A mio avviso Loro non sono pronti Per quest'anno Perché Comunque qualcosa di più Sarebbe uscito Cioè non puoi tenere Una console segreta Cioè cazzo Non sono riusciti A tenere segreta La PS E tanto Il gran gol Di montare Così per chiudere Non sono riusciti A tenere segreta Vabbè Nintendo Però effettivamente Però voglio dire Del Wii U Nonostante Nintendo Abbia espressamente Vietato di parlare Le cose sono uscite Cioè un po' di cose Sono uscite Ma Vaffanculo Sono uscite delle minchiate Solo Multiplayer Può pubblicare Quelle minchiate Sì ma 9 Xbox A 21.000 core Ma vaffanculo Sì ma L'anno scorso Non si Proprio zero Nessun rumor Nulla Ora Si cominciano a vedere Case che annunciano Correggimi se sbaglio C'erano fortissimi Rumori Che l'anno scorso Venissero presentati Tutti tre Sì beh ma Meno di quest'anno A par forza Sono state presentate L'anno scorso Eh Appunto No però Voglio dire Anche l'anno scorso C'erano forti rumori Di presentazione Della console Vabbè sì Ma meno forti Di quest'anno Forza sono meno forti C'erano già rumori All'ora La console non è stata presentata Col passare del tempo Per più grande Nel senso Quello che dico È che Ora si cominciano a sentire Anche case produttrici Che stanno cercando gente Per sviluppare Su una nuova console Ma per forza Eh quindi L'anno scorso Non si sentiva È ora di fare il salto Vabbè rimarrà da vedere Tu sei convinto Che Microsoft Quindi è pronta Per marzo 2012 2013 Convinto Convinto no Spero Quindi tu la prenderai Il day one Beh se c'è qualcosa di decente Sì se no no Nonostante Ciò che è successo Con 360 Beh sì Mi hanno regalato Tre mesi gratis Di live Vabbè allora Meglio che nulla Tre mesi live Certo vale Vale il day one Quando non c'è Un cazzo di gioco Certo Sì A cazzo Buona scherza Tu non sarai quei tre mesi Buona fatta Tu non sarai quei tre mesi live A pieno Se c'è qualche gioco Sì E se non c'è E se non c'è Aspetto Quando c'è Menomale che Almeno qualche volta Ragioni bene va Adesso 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 dice così no Dopo vediamo Quando è il momento Dei fatti Come gioco Come gioco C'è viva pignata Party Animals 2 Se la compro Bungo Fai da mangiare Con Bungo Ma anche quella Lì è un'esclusiva Morte Dunque Comunque Di 360 Avete altro da dire Di 720 No Vediamo Vediamo La situazione Dimmi Ivan Scusa Vuoi dire qualcosa No No Vediamo La situazione Di Di Sony Fondamentalmente Sony È con le pezze Al culo Si può dire Ormai Apertamente Senza che Nessuno Ti salti Alla gola Sono anni Che è in perdita In ogni cazzo Di settore Quello dei videogiochi Forse si è ripreso Effettivamente Negli ultimi Due annetti Però non ci metterai La mano Sul fuoco Tra il fatto Che ha perso Account A caso Vabbè Il Move Ha venduto Meno di una supposta All'anice Quindi molto poco È stato un esperimento Fallitissimo PS Vita Va di merda Quindi Sony I soldi Non ne ha A mio avviso Le probabilità Che faccia una console Non poi così potente Come tutti pensano Sono altissime Oltre al fatto Che naturalmente Ci ritroveremo Per la quarta generazione Sono 40 anni Ormai ci troviamo Questo cazzo Di Dualshock Di merda Che è il controller Più di merda Che si è mai stato Adesso Adesso Il problema Adesso In questo istante Il problema È che Sony Dove cazzo Cioè Mi sa che neanche Loro Sanno cosa stanno facendo Allora Mettiamo Partiamo con il presupposto Che negli ultimi Sei o sette anni Loro Non hanno mai saputo Che cazzo Stavano combinando Perché PS3 è stato Un fallimento Pesantissimo Per tre anni Ha aperto Una voragine Clamorosa I costi I costi di ricerca E sviluppo Di PS Vita Non so quanto sono Ma Hanno speso Un sacco di soldi Forse la vendono In perdita E non vende un cazzo Sì Non sta vendendo La PS Vita La PS4 Io non lo so Se la stanno effettivamente Sviluppando ancora Cioè Mi immagino di sì Ma Non so Secondo me Sono la più indietro La compagnia È più indietro Sì Beh D'altronde Come la stessa generazione Devono inventarsi Devono veramente Inventarsi qualcosa di nuovo Per superare Wii U e 720 Sì Cioè Io non so Cosa possono tirar fuori E stavolta A questo punto La varietà Si esaurisce E poi non vende più Cioè Non sta vendendo La PS Vita Già per un motivo Per i cazzi Suoi figurati Si vende La PS4 Ma infatti Il punto Cioè Allora O loro cercano Di fare una specie di Wii Con quel cazzo Di dildo di merda Vengono vendendo I casualoni E fanno 10 milioni Di copie In un giorno solo Oppure Non so cosa possono inventarsi Perché comunque Le esclusive che hanno fatto Han venduto Ma non poi così bene Insomma Giustamente Perché fancagare Che altro Non ho venduto più Le esclusive Ma solo Halo Ha venduto più Di Uncharted 3 Big Planet E non so WP WP Tu dici che Halo Halo Sulla PS3 Potrebbe Sulla PS4 Potrebbe salvare Sony Beh Non lo so Perché guardando i commenti Di quelli che giudicano Halo Dalla parte Sony Non sono belli Però Cioè nel senso Oddio Se avessi visto solo Rich Anch'io direi così No vabbè Non è che fa schifo Guarda che ti sto trollando Non è a livelli di Halo 3 Ma Cioè Guardando i commenti Dei cosiddetti Suonari fanboy Che parlano di Halo No Poi magari Sono i suonari Decenti Sì Secondo me Sì Di sicuro Non fa male Perché quello Che manca La PS3 È uno Shooter In prima persona Voglio dire Non esistono Shooter Ma Ma come Non c'è AIDS Ma io Lo sto dicendo Per trollare C'è il grandissimo AIDS Minchia Non stai scherzando Mamma mia C'è Meg Più di merda Dopo c'è Meg Fa cagare Però Si chiama Meg Ultimamente Non è più che altro Questione di console Questione di sviluppatori Perché adesso Che cosa Guardate Guardate Capcom Guardate Quale altre compagnie Ci sono Capcom 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 È una cosa Imparattante Vabbè Ci sono un casino Di compagnie adesso Che cosa stanno dicendo Queste compagnie Tu Vogliamo La cazzo di audience Di Call of Duty Sui nostri giochi Sì Vogliamo i bimbo minchia Dite Vogliamo i bimbo minchia Sì Mettono Mettono Non lo so È lo chiede che mangia il gelato Con Devil May Cry Vabbè Questo è un discorso Che faremo la prossima volta Però Ultimamente Gli sviluppatori Vogliono soltanto L'audience Di Call of Duty Basta E questo sta Mandando in rovina Tutto Fondamentalmente sì Ma il problema di Sony Appunto è che Non può prendere L'audience di Call of Duty Perché c'è La di Call of Duty E i loro sviluppatori Fanno schifo Fondamentalmente A parte Naughty Dog Che è media mole Vabbè Dead Game Company Non è loro Sì 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 Ma questo è un discorso Che facciamo la prossima volta Perché Ci sono tante cose Di cui parlare la prossima volta Eh Vuoi dire Cosa può fare Sony Per la prossima generazione A livello hardware Deve Cioè Di soldi non ce n'ha Di giochi Di grande richiamo Alla fine non ce n'ha Non ce n'ha più No Che cazzo deve fare Sono tornati tutti A Nintendo adesso Sì Cosa deve fare Cosa si può inventare Io non riesco a capire Sony cosa si può inventare Per uscire dalla merda Io so che comunque PS Vita non vende Non venderà Un cazzo Per altri 30 anni Che non vende Cioè Come minimo La cosa disperata È che Sony E NeoGaff Cercano di nascondere Le vendite scarse Di PS Vita No ma Cioè A parte Ma vi giuro C'è una scala C'è una scala Da una C'è una scala Di un dodicesimo Di vendite Confrontato Tra PS Vita E 3DS Un dodicesimo Di vendite A parte quello Voglio dire Ma È nella stessa Identica situazione Che era Questa generazione La portatile Non vende un cazzo La casalinga neanche Il vantaggio Era che veniva Dando un guadagno Stratosferico Di soldi Con PS2 Che continuava a vendere E continuava a guadagnare soldi Stavolta La PS2 Non c'è più Adesso c'è solo PS3 Che Va Va però Non è che vada poi Va così Così va Sì Voglio dire Andò perso pure Il monopoglio Delle televisioni Adesso Per il colpo del 3D No Non vendono più Un cazzo Da nessuna parte No no Ormai sono Sono alla frutta Con le pezze al culo Il mercato gaming È l'unico Dove effettivamente Hanno ancora un nome Sì Perché effettivamente Il marchio Sony Nei videogiochi È ancora Abbastanza importante Sì È grosso Però non è più Grosso come una volta No Non è più come prima Se lo sono mezzo bruciato Anche lì Vabbè E non hanno modo Cioè Paradossalmente Il mercato gaming Cioè il settore gaming È il settore dove hanno più possibilità Di guadagnare dei soldi Eppure È quello dove sono alla fine Messe peggio In confronto con le concorrenti Quindi non so Cosa Sony Cosa possa fare Mettere bo Una scimmia Nella scatola 6 milioni di copie vendute Io ne compro 8 25 euro di DLC separati No in realtà Ti vendono la consola 600 euro Con 600 euro di buono In omaggio Ma può essere Ma guarda Piuttosto Piuttosto Te la Me la vado a rivendere A Sony Cioè me la ricompra A Sony stessa Ci guadagnano loro lo stesso Quindi Ricapito Vai 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 Finisci pure E No Volevo solo dire È ironica la cosa Perché Perché niente Si sono rovinati da soli Mo si arrangiano Mo la prendono in culo Non hanno Non hanno progetti Per i PSV Per far tornare in vita La PSV Nintendo li sta superando Su tutti i fronti Con il 3DS Che è una cosa incredibile Su PS4 Non hanno detto niente E non hanno Diciamo che Stanno facendo Restare alla comunità Più possibile Su PS3 E in questo Però in questo modo appunto Loro Non c'è hype Per la PS4 Capito Tutto qui Esatto Ricapitolando Attualmente Quella che sembra Messa Meglio È Nintendo Più che altro Perché si è vissuto Di più e più avanti Oggettivamente 720 rimane effettivamente Un'incognita Con il rischio Che facciano una console Kinecrecentrica Di merda Però potrebbero anche dire Tanto noi Se lo dice Li abbiamo La facciamo Megapotente Quindi ci ripartiamo Tutti Sony È una pezza Al culo unica Quindi non saprei Onestamente Cosa posso tirare fuori Tirando le somme Di questa nuova generazione Che si avvicina Che è l'E3 Dopo ne ripareremo Ovviamente Wii U Siamo nella merda Siamo nella merda Compriamo il Wii U E va con qui Sì sì Comprate il Wii U E comprate un 3DS Cazzo Compratelo anche a me Anche a me Allora già che ci sia Facciamo 3DS 3DS per il trio dei nerd Credo che sia abbastanza Ci rivediamo Forse settimana prossima Forse no Adesso vediamo Un pezzo al culo Un pezzo al culo per tutti Grazie per averci seguito Adesso saluto Saluto Wipi Nel senso Non seguiteci troppo Perché non mi va Di vedermi Gente dietro Non mi fido Quindi ciao Ma se sei gay Dovrebbe piacerti Ma che cosa gay Vabbè Ciao a tutti Da me ovviamente Dal Wipi gay Ovviamente anche da Ma che cosa Genio Non gay Gay Il genio dei gay Certo 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 No no